buonasera questo qui è il maglioncino della notte perdonatemi sono le tre le quattro la notte non riesco a dormire ma mi impegnerò troppi pensieri in testa allora ho perso già dieci secondi nel dire allora perdonatemi ma voglio parlare piano perché una fra le cose più importanti della comunicazione contemporanea che dicono tutto molto velocemente invece è importante rilassarsi anche se si parla di cose molto gravi il mio pensiero va proprio riguardo al giorno della memoria che è appena passato io sono cresciuto da piccolino che avevo paura dei tedeschi dei tedeschi mi nascondeva ero terrorizzato perché incominciano a borbandare con tutta questa propaganda terroristica di quello che avevano fatti i tedeschi che senza dubbio è un abominio ma tuttora in africa non penso siamo molto distante forse hanno superato quei livelli addirittura ho visto nel momento contemporaneo quindi un paio di settimane fa che i prigionieri venivano scortati non più con i fucili ma con i wazuka e quindi siamoci attenti ma il problema che io mi pongo è non quello che hanno fatto i tedeschi ma come i tedeschi sono arrivati a realizzare tutto questo allora benissimo ci sono arrivati perché sono stati terrorizzati a tal punto perché sono stati terrorizzati dal punto perché gli ebrei erano una comunità fin da sempre sono stati una comunità iper spirituali sono gli israeliti quindi la luna il sole le stelle la magia no la magia si fa immagini re maghi quindi siamo attenti alla magia bianca e la magia nera si parla qua di bianca però i tedeschi siccome erano accolassati dall'economia gli ebrei qualsiasi cosa privano facendola col karma con la spiritualità rispettando le regole energetiche gli andavano un po meglio diciamole così la cosa e tedeschi erano in crisi allora si cogitarono che gli ebrei erano gli aduratori del diavolo e incominciarono con una propaganda con una propaganda tanto è vero che i bambini si terrorizzavano agli ebrei e tutto il popolo tedesco così terrorizzato dopo tutto questo lavaggio di cervello e l'ebreo non voglio ripetere comunque ama il diavolo fa riti mangia bambini fa di tutto allora il tedesco ha incominciato il bambino tedesco addirittura anche il bambino avere terrore degli ebrei perché gli ebrei erano il diavolo il giorno della memoria è stato ieri ma ci siamo dentro tutt'oggi perché io fino a ieri ho stato policlinico vuoto e con alcuni amici con cui mi confronto tutto questo è terrore ora io ho avuto sempre un piccolo dubbio però il mondo è molto chiaro le cose per come stanno avvenendo c'è mezzo mondo fuori dal covid comunque la cosa che tengo a dire è tutto parte da roma e tutto ritorno a roma cose che intendo a dire quando gli ebrei dissero vogliamo Gesù crocifisso a posto di barabba perché cosa era successo perché anche a sua volta gli ebrei erano stati massacrati dov'è Gesù dov'è Gesù dov'è Gesù dov'è Gesù e soprattutto provenivano da una strage di bambini innocenti di erode quindi tutte le generazioni a venire quindi Gesù 33 anni per 33 anni ci sono state 30 famiglie questo è un numero forse qualcosa in più che erano addannatissime perché gli avevano uccisi i bambini appena nati e quindi davano la morte con Gesù perché la causa di questa morte era Gesù quindi quello là che vorrei precisare è siamo attenti al terrore perché il terrore è colui che legittima la dittatura e poi il quesito quello che mi sta più a cuore che veramente mi sto rendendo conto che siamo a mio avviso siamo tutti alla frutta perché non è che io vivo in una stella e voi in un'altra viviamo tutti in questo in questo pianeta no? prendete così tanto alla leggera l'abbattimento di un Santa Marta di un Santo Bambino ora già quando avete abbattuto quando hanno abbattuto la posta io sono rimasto basile ho detto ma veramente state scherzando voi dovete pensare io in bagno o dei sanitari non li cambio perché non voglio inquinare è falsità oggi siamo arrivati ad un livello di inquinamento estremo il pianeta non ci sopporta più siamo noi il virus quindi è inutile che tutta questa politica imbavagliata con la squarretta che sembrano nemici della sana di creazione come dire cioè è ridicola questa situazione amministrativa che ci troviamo questo incapunirsi con le demolizioni che non è a Catania perdonate ma è in tutta Italia e usare questi fondi stanziati appunto perché siamo stati un anno fermi per demolire per è un grave inganno prima di tutto per l'inquinamento che ne uscirà fuori che sarà senza precedenti cioè è come se l'Italia è stata borbandata perché sarà tutto demolito secondariamente rispetto perché se c'è una struttura che è stata nominata ad un santo addirittura il Santo Bambino e voi ne parlate io la batterei qui a destra sinistra se veramente siete con i mostri qui dentro allora questi fondi sette minuti a volte scusate questi fondi dovrebbero essere utilizzati per creare aree verdi per creare dei polmoni per salvaguardare il pianeta niente ho detto molte cose ma la cosa ci tengo a dire è dobbiamo cambiare modo di pensare perché siamo davvero questa volta in pericolo e non è il virus ma è l'uomo buonanotte anzi buongiorno perché voi si sveglierete mentre io torno sono davvero questa volta in pericolo con il suo la mia a a a l'uomo a l'uomo a a